A Legnano, grazie alla collaborazione tra CAPAC e Scuola di Musica Niccolò Paganini, nasce il primo centro di formazione professionale per la musica. Gabriele Cartasegna, direttore del CAPAC, ci spiega qual è la finalità di questa iniziativa e quali sono le ricadute pratiche per i giovani del nostro territorio. L'obiettivo di questa iniziativa, che si vede più volte oggi come CAPAC sul territorio di Legnano e dell'Alto Milanese insieme a Scuola di Musica Niccolò Paganini, è fondamentalmente quello di dare una certificazione di competenze a giovani che hanno interpreso un percorso di studi musicali con l'obiettivo di fare di queste competenze e del talento che hanno acquisito una vera e propria professione. Questa opportunità ci è data da Regione Lombardia che ha inserito la figura professionale del musicista nel suo repertorio della formazione professionale e quindi noi dall'anno prossimo, quindi da dopo l'estate con percorsi che avvieremo a partire dal mese di settembre, saremo in grado di portare questi giovani a un certificato di competenze spendibili in ogni contesto lavorativo in tutta Europa.